Parilu, Parilu, che c'è Polo? Lo sai che ho scoperto? Cosa? Che Saul non è rimasto umile come nella lezione precedente? Eh sì, lo so Polo, anche io ho studiato quella lezione negli anni scorsi, quando ero più piccola. Eh, ma lo sai che cosa ha combinato? Eh sì, purtroppo ha disubbidito parecchie volte, fino a che Dio non l'ha potuto fare altro che togliergli legno. Che brutto però! Perché è stato così sciocco, Parilu? Eh, Polo, purtroppo a volte succede che le persone a cui viene affidato il compito si montano la testa ed esagerano. È vero! È vero come il nostro rappresentante di classe, il mio amico Leo. Ah sì, che ha fatto? Ah sì, quando è stato votato come rappresentante, si vergognava da morire. E quando la maestra lo chiamava, lui scappava quasi. Poi ci ha preso così tanto la mano, che quando abbiamo fatto la rappresentazione delle classi, classi, e gli hanno dato da leggere un foglio davanti al microfono, non se la finiva più. Sembrava il preside. La maestra l'ha dovuto buttarlo giù dal palco, perché non se la finiva più. Il preside ha detto, guarda Leo, sei stato bravo, ma il preside sono io, eh. Eh, devo io dire queste cose ai ragazzi, non tu. Ah, aveva proprio esagerato il tuo amico Leo. Eh sì, ha fatto una figuraccia e l'ha diventato tutto rosso. Ecco, però, nella lezione anche Saulo si è comportato in un modo così arrogante, sai? Eh sì, l'ho letto, quando ha fatto il sacrificio al posto di Samuele. Eh già, lui doveva aspettarlo, perché era compito di Samuele fare i sacrifici. Per Dio, ma lui è stato così impaziente, che ha deciso di fare tutto da solo. Eh sì, ma quando Samuele è arrivato, l'ha sgridato tantissimo. Eh già, e questo non è stato la prima volta, perché lui poi ha continuato, ne ha fatti sempre di peggio. E poi dopo Dio ha dovuto parlare a Samuele e gli ha detto che il trono gli era stato tolto, perché era diventato disubbidiente. Oh, è vero, è brutta fine però, eh Marilu? Eh sì, eh sì, caro voglio. Purtroppo bisogna essere sempre umili e accettare sempre che Dio ci guidi nelle cose, soprattutto in queste, eh? Sì sì, hai ragione Marilu, è brutto essere presuntuosi. Ci fa delle brutte figure, come a mia amico Leo. Eh già, però dobbiamo stare attenti anche noi, di non cadere nello stesso errore. Sì sì, dobbiamo essere delle persone avvenute. Eh già, bravo Poldo, vedo che le lezioni ti piacciono molto. Sì sì, mi piacciono, imparo tante cose che mi sono utili, perché io voglio essere un bambino pubbidiente. Bravo, bravo Poldo, ora, ora andiamo, dai, che la cena è pronta. Oh sì, ho una gran fame. Eh già, però non prendere il mio posto. No, no, lo so, lo so. Ciao, ciao. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.